Sono trascorsi tre anni da quando il Comune di Messina ha avanzato richiesta al Ministero dell'Interno per accedere al piano di riequilibrio, per evitare il default e ripianare in dieci anni i debiti dell'ente. Da Roma in tutto questo periodo hanno vagliato il documento, ma a quanto pare ancora bisogna attendere per ottenere il parere finale. Così il destino finanziario di Palazzo Zanca rimane appeso ad un filo. Il Ministero dell'Interno adesso chiede di integrare la documentazione già presentata ed allegata alla versione finale del piano, che risale al settembre lo scorso anno, approvata dal Consiglio Comunale. Lo Stato chiede di conoscere le pronunce della Corte dei Conti e le misure correttive conseguenti adottate, il rispetto del patto di stabilità per gli anni 2014 e il 2016, il monitoraggio sul raggiungimento del saldo di finanza pubblica nel 2016, andamenti di cassa con quantificazione delle anticipazioni di tesoreria, usufruite e restituite nel periodo compreso tra il 2014 e il 2016, l'anticipazione di liquidità da parte della cassa, depositi e prestiti, l'accesso al fondo di rotazione, l'analisi sugli equilibri di bilancio di parte corrente e capitale. Il Ministero vuole sapere, infine, qual è la reale condizione finanziaria dell'ente, la situazione del personale, lo stato di salute delle società partecipate e che fine ha fatto il piano di dismissione degli immobili che avrebbe dovuto portare risorse fresche nelle casse dell'ente. Un gran lavoro dunque per l'assessore alle politiche finanziarie Vincenzo Cuzzola e i dirigenti e in tutto questo si inserisce la mancata approvazione del bilancio di previsione 2017. Grazie a tutti!